E' finita ieri l'avventura di mister Claudio Rastelli sulla panchina dell'FC Suttiro iniziata il 7 ottobre 2013 e durata 44 partite. Il tecnico bianco-rosso dopo la sonora sconfitta maturata contro il Feral Pissalò col pesante passivo di 4-1 è stato esonerato in tronco. E' finita l'avventura, sono arrivato in punta di pieti, arrivato via in punta di pieti, in mezzo c'è stato un grande risultato della finale del playoff dello scorso anno. Spero che sia la scelta giusta, rimango legato a questa società e a questo ambiente perché so che è una società seria e tiferò per loro. Un passo falso quello compiuto dai bianco-rossi ieri che ha dell'inspiegabile sotto di un gol dopo soli due minuti di gioco per la rete di Fabris. I bianco-rossi a più riprese hanno tentato di raddrizzare le sorti del match, riuscendoci solo nel secondo tempo per la precisione al 62esimo minuto con il solito Manuel Fischnaller che, ben servito da Tagliani sul filo del fuorigioco, è riuscito a castigare con un diagonale l'estremo difensore bresciano. E una volta raggiunto il pareggio, i ragazzi di Rastelli incomprensibilmente sono andati letteralmente in tilt, incassando tre gol in sette minuti. Prima con Fabris, poi con Braccaletti ed infine con Romero. La partita si è chiusa 4-1 a favore della squadra allenata da Giuseppe Scienza e con la decisione della dirigenza bianco-rossa di sollevare Rastelli dal proprio incarico. Mi rimango indipendente dalla società, se c'è da una mano anche in altri settori potrò dare una mano, se non servirà andrò in giro a studiare e a vedere di poter migliorare quello che è stato sotto l'aspetto tecnico-dattico fino ad adesso. Dodicesima giornata di Lega Pro, prima divisione amarissima per il Sud Tirol, che ora si trova nei bassi fondi della classifica. E sabato al Druso ci sarà Lumezzane, penultimo in graduatoria. Grazie.